Diamo voce a chi non può nemmeno piangere! Diamo voce a chi non può nemmeno piangere! Menarini assassini! Gridate più forte cazzo! Ci devono sentire dappertutto! Prima liberiamo e poi vi cerchiamo! Il dialogo ha successo, qui ribadisco non siamo in democrazia, non serve a niente parlare, quindi se tra 5 minuti non ci fanno entrare, entreremo lo stesso! Se siamo tutti organizzati non possono fermare una causa, loro non possono fermarci, non sono poche persone che chiedono questo! Siamo tutti quanti e diventa una volontà popolare e la volontà popolare è sovrana! Nessuno ci potrà fermare! Se loro ci faranno entrare non accadrà niente a nessuno, altrimenti non si sa quello che potrà accadere! Non ci fermerà nessuno! Animali liberi! Animali liberi! Nessun compromesso! Animali liberi! Nessun compromesso! Fanculo la legge! Quando la legge è sbagliata la cosa giusta da fare è cancellarla! Fanculo la legge! Quando la legge è sbagliata la cosa giusta da fare è cancellarla! Quindi prepariamoci tutti quanti ad entrare! Le forze dell'ordine si stanno mettendo i caschi! Noi entreremo pacificamente! Noi siamo le vittime! Assassini! 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 Andiamo! 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 Andiamo!